Il verismo. Il verismo è una corrente letteraria che si sviluppa attorno alla metà degli anni 70 dell'Ottocento e finirà grosso modo alla fine del secolo. Il verismo si sviluppa sotto l'influenza del clima positivista e si ispira direttamente al naturalismo francese. Con questa corrente condivide l'avversione nei confronti del romanticismo, in particolare punta al superamento del romanzo storico. Infatti tutti i testi veristi saranno ambientati esclusivamente nel presente, quindi nell'Ottocento, magari qualche decennio indietro rispetto alla data di vita degli autori. Oltre a ciò il verismo parte da un rifiuto netto del sentimentalismo romantico. Nel romanticismo il narratore penetrava nell'anima dei personaggi. Nel verismo invece gli autori vogliono semplicemente presentare dati oggettivi e osservabili, in modo che sia il lettore aggiungere a delle conclusioni e a dei giudizi. Il carattere dei personaggi dunque deve emergere a poco a poco. Come dice Verga, un personaggio dovrebbe farsi da sé. Insomma, sempre Verga in un altro punto dice che il personaggio per descriverlo basterebbero dieci parole e il modo in cui si soffia al naso. Il più importante teorico del verismo è Luigi Capuana. Egli può essere considerato l'autore di raccordo tra il naturalismo francese e appunto il verismo italiano. Più precisamente Capuana fu il primo a leggere i romanzi francesi e a credere che anche nel nostro paese dovesse nascere una letteratura di denuncia su base scientifica. Capuana a Firenze conoscerà un autore, un autore che non è ancora pienamente affermato, che è Giovanni Verga. Capirà il suo valore artistico e lo convincerà a iniziare con lui questa avventura. Giovanni Verga, infatti, prima di aderire alla fase verista, era un romantico. Luigi Capuana può essere considerato dunque un intellettuale con le antenne alte, pronto a captare ogni movimento e romanzo che venga e che sorga in Europa. Può essere considerato un vero e proprio talent scout perché oltre a scoprire Giovanni Verga, qualche anno dopo scoprirà anche Luigi Pirandello, la cui prima fase sarà appunto verista. Federico De Roberto è il terzo esponente più significativo del verismo con il suo romanzo I vicere. De Roberto è di una generazione più piccola rispetto a Verga e Capuana, ma diventerà grande amico dei due critici e teorici della letteratura. Una tipica domanda che frequentemente viene posta alla maturità è quali sono le differenze tra naturalismo francese e verismo italiano? Vediamo di rispondere con ordine. Principalmente le differenze tra naturalismo e verismo sono sei. La prima, il naturalismo ha carattere nazionale, mentre il verismo ha carattere regionale. Ciò significa che il naturalismo si sviluppa in tutta la Francia e ha autori provenienti appunto da diverse città. Il verismo invece si sviluppa esclusivamente in Sicilia e in parte in Calabria. La seconda differenza riguarda l'ambiente in cui sono rappresentati i romanzi. Per quanto riguarda il naturalismo si tratta di una realtà tendenzialmente urbana. Per quanto riguarda il verismo invece troviamo paesi, province, una realtà quindi rurale. La terza differenza, strettamente legata alle precedenti, riguarda i personaggi. Per quanto riguarda i romanzi di Zola, Flaubert, i romanzi naturalisti, i personaggi sono tendenzialmente provenienti dal proletariato urbano o comunque provenienti dalla città, quindi borghesi, operai, a volte anche prostitute. Per quanto riguarda invece i veristi, Verga ad esempio, utilizza esclusivamente pescatori, pastori, contadini. La quarta differenza invece risulta forse la più importante. E riguarda la funzione sociale dell'arte, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Per i naturalisti francesi il romanzo appunto doveva denunciare i mali della società. E appunto Zola, Flaubert, Maupassant denunciano che cosa? Denunciano innanzitutto i problemi legati alla forte industrializzazione della Francia. Quindi ad esempio il problema dell'alcolismo, il problema della prostituzione, dello sfruttamento minorile. Per quanto riguarda invece il verismo italiano, la funzione sociale dell'arte è esaudita dalla denuncia di uno dei problemi più gravi dell'Italia appena unita, ovvero la questione meridionale. Il latifondismo, i contrasti tra ceti sociali, l'analfabetismo, la superstizione, il forte fatalismo, insomma tutti quei problemi che affliggono il meridione d'Italia. Da una parte un nord che inizia ad essere industrializzato ed economicamente più avanzato e dall'altra un sud fermo. La quinta differenza riguarda la lingua. I naturalisti francesi utilizzano una lingua mimetica, ovvero a seconda della regione o della città in cui ambientano il proprio romanzo, compie uno studio linguistico sulla parlata locale e di conseguenza la imitano fedelmente all'interno dei loro romanzi. Ciò assolutamente non accade nel verismo. Attenzione perché questo è uno dei trabocchetti più insidiosi di Verga, perché Giovanni Verga è siciliano, ambienta tutte le sue opere in Sicilia, i suoi personaggi sono siciliani e di conseguenza come lingua usa, ci verrebbe da dire il dialetto siciliano, niente di tutto questo. Verga utilizza un italiano, un italo-toscano diciamo, con giusto qualche parola pittoresca, qualche modo di dire, qualche proverbio proveniente dalla realtà locale siciliana. I veristi hanno una grande attenzione nel creare una lingua, appunto che riesca a imitare magari la sintassi elementare e disarticolata di personaggi provenienti da una scarsa cultura. Perché la scelta di un italiano? Perché è il pubblico al quale si rivolge Verga che deve capire questi romanzi, che non sono i siciliani che stanno male e sanno di stare male e non hanno bisogno di una letteratura che parli del loro dolore. Il pubblico elettivo, il lettore ideale di Giovanni Verga è proprio la borghesia ambrosiana milanese che ha in mano il potere di cambiare le sorti del meridione. Non è un caso che Verga viva 30 anni a Milano e presso treves pubblichi tutte le sue opere. La sesta e ultima differenza tra naturalismo e verismo riguarda l'impersonalità del narratore. Potremmo definire il narratore impersonale naturalista a parte auctoris, ovvero dalla parte dell'autore, mentre il narratore impersonale verista a parte opere, ovvero dalla parte dell'opera. Cosa cambia? Il narratore naturalista si presenta come uno scienziato in camice, freddissimo, algido, che documenta, che stende quasi un problema sul foglio senza minimamente far apparire il suo personaggio. Il narratore di Verga, invece, attua una vera e propria regressione al punto di vista popolare, presentando quindi un narratore che a volte giudica, o meglio, presenta dei giudizi che sono erronei, sono dei veri e propri pregiudizi popolari. Un esempio è l'Incipit di Rosso Malpelo. Il narratore inizia la novella dicendo Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che riusciva di diventare un fior di birbante. Il narratore qui ci ha appena detto che chi ha i capelli rossi è un ragazzo cattivo. Ma Verga non crede assolutamente a questo pregiudizio. Ha creato però un narratore, l'ha fatto regredire al punto di vista popolare per riuscire a presentare in modo più oggettivo possibile, senza filtri, al lettore scandalizzandolo, il pensiero ignorante di un paese della Sicilia. Dunque da una parte un narratore impersonale che è tutto rivolto al punto di vista dell'autore, dall'altra un narratore impersonale che invece è completamente immerso all'interno dell'opera. Per questo motivo Luigi Capuana dirà con una metafora che alla fotografia dei naturalisti lui preferirà il quadro. Ovvero il quadro è fatto dei mezzi, delle tecniche che appunto Giovanni Verga sta creando in questi anni per riuscire a creare il suo narratore. Una delle più importanti oltre alla regressione del narratore è l'uso dell'indiretto libero, il discorso indiretto libero. Per capire questa tecnica facciamo un esempio. Discorso diretto. Marco dice, due punti aperte le virgolette, ho voglia di una mela. Discorso indiretto. Marco dice di avere voglia di una mela. Discorso indiretto libero. Il narratore inizia il testo direttamente dicendo oggi ci starebbe proprio una mela e va avanti dicendo Marco quel giorno era molto affamato e scese la scalinata fino al mercato. L'incipit di questo racconto presenta un'affermazione senza virgolette che potrebbe essere pronunciata tranquillamente dal personaggio. In realtà è il narratore che la dice. In questo modo si confondono i pensieri del personaggio con le parole del narratore. E su questo è tutto. Ciao ragazzi, mi raccomando non studiate troppo, se no finite come me dentro un bagno. Ciao! 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 Ciao!